Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Orologi A-Cook Orologio A-Cook. 30 dicembre 2005 9 tedesco Orologio A-Cook di un giorno di movimento in stile Chalet 25 cm da Anton Schneider. Made in Germany garanzia? Due anni. 100 originale Orologio A-Cook della Foresta Nera. Incluso. Certificato di autenticità da parte dell'Associazione Orologio Foresta Nera. Premium Orologio A-Cook da Anton Schneider. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.